Nove anni di carcere per aver tentato di uccidere Kurt Westergaard, l'autore delle vignette su Maometto, e aver violato il diritto alla libertà di pensiero in Danimarca. La pena è stata resa nota dopo il verdetto unanime di giovedì della corte di Arus, che lo aveva giudicato colpevole di terrorismo. 29 anni, Somalo Mohamed Gili, il primo gennaio 2010, aveva fatto irruzione nella casa del vignettista, armato di un ascio e un coltello, gridando vendetta per i musulmani. Il disegnatore era riuscito a salvarsi rifugiandosi in bagno, da dove aveva chiamato la polizia. Il Somalo era poi rimasto ferito nel corso di una colluttazione con gli agenti.